Adesso ho visto il sito di San Donato, qui la pulizia della grande Amsa di Milano a 111 anni, guardate che meraviglia, guardate che schifo che c'è qua, guardate che schifo, guardate che schifo, gli rami, foglie, poi c'è anche il tubo di irrigazione, i cazzi che neanche portano gli alberi, che stanno seccando, guardate che schifo. Adesso mi è passato davanti, perché stavo cercando un numero, guardate che schifo che c'è qua, la grande Amsa di Milano, anche San Donato esistisce, mamma mia, proprio tutto il che c'è, i soliti rami, adesso mi è successo un fatto vergognoso, increscioso, che adesso aspetto che torna, perché è passato un comincinato dell'Ansa per segnalare il fatto di quello è pronto morto. Praticamente non mi ha cagato, è andato giù di qua, è andato giù di qua, io adesso aspetto, aspetto che torni, non so dove andava, se torna, io adesso lo aspetto, tengo il telefono acceso, perché l'ho chiamato per fargli questa generazione, visto che non trovavo il numero di telefono. è andato giù di qua, qui c'è la stazione, non so dove è andato, forse è andato a cercare lo sporco, è andato a cercare lo sporco, infatti qui non si vede niente, qui non si vede nulla, qui non c'è, infatti tutto è pulito, anche i mattoni qui, questi fanno parte del decoro, del decoro, e questo è il parcheggio a pagamento, si paga pure. è andato a cercare l'immondizia, adesso vediamo l'immondizia e altro, adesso vediamo dove è andato, perché questo lo becco, poi vabbè, strisce e fantasma, questi si chiamano, non guardiamo l'immondizia che c'è in mezzo lì, e tutti i rami che possono tirare in pericolo, adesso, se appena torno, adesso che andate di qua, appena torno lo stango, vabbè, qui c'è la bottiglia, immondizia, immondizia, rami secchi, immondizia, perché sei dottor, bottiglie, questa è una pista a manciapiede, immondizia, guardate, guardate, ma guardate che schifo che c'è qua, guardate che schifo, guardate che schifo, guardate, la grande Amsa di Milano, 110 anni, e no, questo non si deve vedere, questo è nascosto dai danni, loro aspetta che cresca l'erba, perché non si deve vedere, guardate che bellissimo un prato all'inglese, adesso aspetta che torna, la grande Amsa di Milano, guardate che schifo, adesso aspetta che torna se lo vedo, ma se no, dopo andrò a delle autorità competenti, questi, questi stango a morte, io, si spazzo a fatiche, neanche i marciapiedi puliscono, devo stare attento alla mia bici, ma se torna lo becco subito, grazie di visione e salda a tutti.